In un bar mentre passavo lo straccio mi è venuto a dare fastidio Francesco e poi da lì è iniziato il tutto. Perché è buono, è protettivo, è disponibile e aiuta sempre tutti. Perché lui mi ha dato la possibilità di amare nuovamente e di credere nell'amore. L'amore non è solo. Amore come presenza cultiva, come condivisione, come gioia, come sacrificio. Ma si deve continuare ad essere nella sola carne, essere cioè completamente e definitivamente nella realtà di ogni giorno. L'amore non è solo. Vedrò Francesco diverso in un'altra veste perché sicuramente lui si emozionerà e poi anche soprattutto per quello che stiamo facendo perché sarà il giorno più bello della nostra vita. L'amore non è solo. L'amore non è solo.